Un saluto a tutti, sono Oliver e oggi voglio parlarvi di una mappa antica della Terra che mostra cose incredibili. L'equipe di esperti del Centro Mappe di David Ramsey dell'Università Stanford è riuscito a restaurare le 60 parti che compongono questa grande mappa di 3 metri quadri, disegnata a mano dal cartografo Urbano Monte nel 1587. È la mappa più grande del mondo del XVI secolo e gli esperti che l'hanno restaurata dicono che il livello di dettagli è incredibile. La mappa proviene da privati ed è stata studiata per secoli. David Ramsey, il direttore del centro che ha acquistato la mappa, ha deciso di non rivelare il prezzo, anche se dice che è molto preziosa. Per fortuna Ramsey ha pubblicato la mappa su internet e adesso tutto il mondo ha accesso a questo. Per apprezzare meglio tutti i dettagli conviene aprire questo link che permette di zoomare e ruotare la mappa. La prima cosa che richiama l'attenzione è questa regione centrale che non assomiglia molto al polo nord come mostrano le mappe attuali. Ricordiamo che durante il secolo XIV e XV l'Artico non era rappresentato con una zona di ghiaccio deserta ma da un gruppo di isole separate da quattro fiumi che provenivano dal centro. È interessante perché nella Genesi 2.10 si dice che un fiume usciva dall'Eder per irrigare il giardino, poi si divideva e formava quattro corsi. Dal secolo XVII questa zona, che spesso nel centro includeva una montagna di colore nero, cessò di apparire sulle mappe, sostituita con una regione di ghiaccio che oggi conosciamo come polo nord. La mappa di Urbano Monte mostra anche alcune isole misteriose che non esistono nelle mappe attuali. La prima di esse, che si vede sotto, col nome Isola Cristallina, si trova a sud delle isole Malvine nel mare argentino. Se cerchiamo questa località con Google Earth troviamo una piccola isola che si chiama Isola Beucene e se zoomiamo si vede che a destra, dove potrebbe esserci altra terra, è sfumata. Se si cercano informazioni sull'isola ci dicono che è stata scoperta nel 1701. Comunque c'era già sulla mappa di Urbano Monte 120 anni prima, nel 1587. Secondo i dati ufficiali, l'isola è disabitata anche se esistono rovine di costruzioni molto vecchie, forse del 1830. La cosa curiosa è che se andiamo a zoomare con Zoom Earth si vede completamente l'isola. Se allarghiamo sulla destra, che su Google Earth sfumava, si vedono delle anomalie. Questi tagli perfettamente arretti sono di alcuni tipi di costruzioni e si vedono anche strutture piramidali con strani solchi sul terreno. Potrebbero essere i resti di un'antica civilizzazione? Wikipedia dice che ci sono molte grotte, molte di cui ancora da esplorare. Un'altra caratteristica è la torba, che si forma dieci volte più veloce che in qualsiasi altra parte del mondo, un processo inspiegabile. Un'altra cosa sospetta è che i visitatori devono richiedere un permesso speciale del Comitato Esecutivo delle Isole Malvine, compresa l'Organizzazione della Conservazione delle Folkland. Bisogna chiedere il permesso perché devono finire il censimento degli uccelli nella zona, pertanto senza questo permesso speciale non è possibile visitare ed esplorare l'isola. Questo ci ricorda la restrizione che c'è per l'Antartide. La seconda isola fantasma che si trova sulla mappa di Urbano Monte si chiama Brasil, o High Brasil. L'isola si trova ad ovest dell'Irlanda, nell'Oceano Atlantico, e secondo la mitologia irlandese c'è sempre della nebbia, eccetto un giorno ogni sette anni. L'isola si trova anche su mappe anteriori, come questa del cartografo Angelino Dulcert dell'anno 1325, o sull'Atlante catalano del 1375, e si continuò a vedere sulle mappe fino al XIX secolo. Nel 1480 sono state inviate diverse spedizioni da Bristol alla ricerca di High Brasil, e sembra che quasi tutti abbiano fallito anche se qualcuno è riuscito a trovarla. Il capitano scozzese John Nisbet conferma di aver trovato High Brasil nel 1674, e poco dopo anche il capitano Alexander Johnson affermò di aver trovato High Brasil, confermando la storia del capitano Nisbet. Secondo loro l'isola è piena di conigli neri alquanto strani ed enormi. Inoltre, sull'isola ci abitava un vecchio saggio che gli ha dato oro e argento. L'ultimo avvistamento documentato di High Brasil è stato nel 1872, quando l'autore irrandese Teiji Westrop affermò di aver visto l'isola in tre occasioni. Durante il XX secolo, molti pescatori irrandesi hanno affermato di aver visto l'isola misteriosa, che sta gradualmente sparendo dalle mappe. A fianco della Norvegia, Urbano Monte ha disegnato una spirale chiamato Vorago, riferendosi a un turbine. La cosa interessante è che nel 2009 accadde un fenomeno strano conosciuto come l'anomalia della spirale norvegese. La luce strana con la forma di spirale si è potuta vedere di notte nei cieli della Norvegia e della Svezia. Scienziati di tutto il mondo si stanno chiedendo che cosa sia il mistero della luce blu a spirale nel cielo sopra la Norvegia di venerdì scorso. Ieri mattina, prima dell'alba, questo è quanto è apparso nella regione a nord nel cielo. Una piccola luce blu che poi è cresciuta fino a sparire in quello che potrebbe essere un buco nero. Una cosa misteriosa nel cielo della Norvegia, questa mattina presto. Non si erano mai viste prima una spirale di luce bianca con la coda blu. I giornali norvegesi sono stati bombardati da gente che l'aveva vista chiedendosi che cosa fosse successo. Si è pensato a dei missili russi. Ma la Russia lo ha negato, ovviamente. Era una cometa o qualche altro oggetto segreto. Esso ha la forma di una spirale che è stato visto vicino ad una base militare nella regione nordica vicino al Mar Bianco e che ha percorso centinaia di chilometri e poi si è perso come finito dentro un buco nero nello spazio. Il giorno seguente il ministero della difesa russa ha detto che si è trattato della prova fallita di un missile. Alcune ore più tardi il ministero del governo russo ha informato che quanto si è visto si trattava della prova mancata di un missile intercontinentale considerato uno degli ultimi progressi tecnologici. La spiegazione qui sembra sia stata una manovra oltre i confini dei militari russi ed un altro fallimento del lancio di un missile. La spiegazione della forma vista sopra la Norvegia hanno detto che la luna era causata dalla perdita del carburante del missile. Anche questa spiegazione non ha convinto molta gente la quale ricordava la strana luce nel cielo che è stata vista qualche settimana fa durante il lancio dei SpaceX nella California. Un'altra cosa interessante della mappa è che Urbano Monte ha disegnato l'arca di Noè in Turchia. La cosa curiosa è che alcune settimane prima c'era la notizia che più di un centinaio di scienziati ed esperti si sono incontrati in Turchia per cercare l'esatta località dell'arca. Nella Genesi 8.4 si dice che quando finì il diluvio universale l'arca si posò sul monte Ararat in Turchia. Un gruppo di esploratori nel 2010 affermò di aver trovato i resti della barca sulla vetta più alta della Turchia sul monte Ararat. Ricercatori cinesi assicurano di aver localizzato l'arca di Noè in Turchia. I resti trovati, una struttura di legno a un'età che risale a 4.800 anni, sono stati localizzati sul monte Ararat, il più alto della Turchia, ad un'altezza di 4.000 metri. Quello che ha richiamato la mia attenzione è la presenza di animali mitologici compresi giganti nella parte esterna della mappa. In Argentina si vede una regione gigantesca, ma non si tratta di una cosa in esclusiva della mappa di Urbano Monte, ma si trova in altre antiche mappe come questa mercatore del 1569, dove si dice che in Patagonia c'erano giganti alti più di 3 metri. Ricordiamo che sono stati ritrovati innumerebili scheletri e resti di giganti nel mondo. Anche se le autorità si sono incaricate di nascondere qualche evidenza che indica l'esistenza di giganti, nella Genesi 6.1 ed altri libri apocrifi, come quello di Enoch, si parla dell'esistenza di questi esseri in passato. Nella mappa di Urbano Monte si trovano anche animali ibridi, come sirene, grifoni, tritoni, centauri o passeri enormi. Sfogliate la mappa perché, anche se scritta in una forma italiana decisamente vecchia, si riesce a comprendere abbastanza bene. Una cosa curiosa è che nel libro di Enoch si dice che nei confini della Terra ci sono animali enormi e strani passeri di colori differenti. La presenza di animali ibridi si trova nel libro di Hazer e nel libro dei giganti che apparteneva ai manoscritti del Mar Morto. In questi libri si dice che prima del diluvio si praticava l'incrocio fra animali così da provocare gli dèi e molti esperti pensano che gli animali mitologici che sono stati rappresentati in molte antiche civilizzazioni sono veramente esistite nel passato. Per finire andiamo a vedere questo grafico che si trova in un angolo della mappa che raffigura una serie di teste che soffiano i diversi venti che ci sono sulla Terra. In particolare ha richiamato la mia attenzione a questa testa che è differente dalle altre con la forma di un cranio. L'iscrizione dice che questo vento è dannoso per tutti gli esseri sulla Terra. La cosa curiosa è che nel libro di Enoch sono descritti questi venti che si vedono in molte antiche mappe e si menziona anche l'esistenza di venti dannosi come quelli che indica la mappa di Urbano Monte. Senza dubbio questa mappa antica racchiude molti misteri ed è molto interessante analizzarla. Se siete nuovi al canale iscrivetevi, parleremo ancora di questi temi e come sempre grazie molte a tutti per essere qui e al prossimo video. Grazie a tutti!